Benvenuti a questa edizione di Trissetle Giornale del 25 aprile e apriamo appunto parlando della festa della liberazione che è giunta al 74esimo anniversario, ovviamente festa anche a Siracusa come di consueto con una cerimonia che si è tenuta al Pantheon. Vediamo. Anche a Siracusa è stato celebrato il 74esimo anniversario della liberazione. Il 25 aprile, giorno fondamentale per la storia d'Italia, è il simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica messa in atto dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista. Questa mattina la cerimonia alla quale hanno partecipato le autorità militari, civili e religiose si è tenuta nel piazzello antistante alla chiesa di Sant'Ommaso al Pantheon. Allo schieramento hanno partecipato le unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Esercito, dell'Arenautica, della Marina, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. Mai come prima gli italiani furono uniti da un fortissimo sentimento di appartenenza alla patria, che mentre vendicava i diritti negati di libertà e democrazia poneva nel panorama dei doveri anche quello della diretta e consapevole responsabilità politica di ogni cittadino. Presente anche il prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, che ha passato il rassegno allo schieramento. Dopo la deposizione delle corone è stata celebrata la Santa Messa. Parliamo di guide turistiche adesso, perché la vicepresidente lamenta l'abusivismo nella professione e chiede ovviamente maggiori controlli nel settore. Le guide turistiche di Siracusa lamentano il fenomeno dell'abusivismo sempre più dilagante nella loro professione. Lamentano soprattutto la presenza di persone che si improvvisano guida turistiche facendo errori anche marchiani. Ma com'è possibile evitare questo e soprattutto com'è possibile debellare il fenomeno? Inizia dalla stagione calda per voi, soprattutto guide turistiche, che avete a che fare con numerosi turisti, ma dovete avere a che fare anche con gli abusivi. Quant'è profondo questo fenomeno? Questa è una piaga che comunque ci ha sempre colpiti come guide turistiche. Adesso ancora di più perché siamo in un momento in cui c'è questa forte richiesta e nonostante ci siano guide autorizzate, perché noi nella regione Sicilia dal 2012 siamo guide regionali, quindi le guide ci sarebbero autorizzate. Io lo vedo a Siracusa, abbiamo questa piaga che è molto forte. e a volte si sentono anche delle notizie che non sono per niente corrette. La guida turistica è una figura che è un po' una mediatrice di cultura, perché noi parliamo di cultura, parliamo del nostro territorio, parliamo dei monumenti, delle bellezze, della ricchezza della città. Investiamo tempo, investiamo anche molta passione, professionalità per far sì di dare al meglio tutto ciò che noi possiamo, come dire, mostrare e far sì che il turista possa capire ed entrare l'anima della città. Hai chiesto un intervento anche da parte dell'amministrazione comunale, quale? Noi abbiamo chiesto, ma già da anni, però adesso speriamo che con questa organizzazione della polizia turistica veramente possa prendere il via questa forma di legalità e quindi che in un certo senso possano vigilare e dare e controllare l'abusivismo. Il decoro del centro storico, il decoro di Ortigia, è stato convocato dall'assessore comunale Giusi Genovesi, un tavolo con la sovrintendenza. Nasce un tavolo di confronto tra l'amministrazione comunale e la sovrintendenza beni culturali, centro dell'attenzione e il decoro urbano di Ortigia e non soltanto. Assessore, lei parlava del decoro urbano, soprattutto in Ortigia, con regolamenti da rispettare, soprattutto da far conoscere. Sì, mi riferivo al regolamento del decoro urbano che vige a Siracusa dal 2014, sicuramente uno strumento importante che per vari motivi comunque è stato non sempre attuato. Adesso diciamo che, come dicevo prima, poc'anzi durante la conferenza stampa il turismo è la nostra sicuramente risorsa principale. Le città spesso subiscono il turismo, all'inizio soprattutto. È una forma importante di economia ed è necessario, sebbene all'inizio venga subito dalla città tutta, ma non Siracusa, sto parlando di tutte le città del mondo, poi a poco a poco questo fenomeno, questo importante volano economico va gestito. E noi siamo qui a poco a poco a gestire questo fenomeno, con il regolamento del decoro urbano vigente e con altri regolamenti o modifiche allo stesso che verranno via via attuati. Lei diceva che ha istituito anche un tavolo di confronto con la sovrintendenza. Sì, il codice dei beni culturali, l'articolo 52, riporta proprio la necessità di individuare delle aree di tutela. Le aree di tutela vengono individuate dalle comune, dagli enti locali e insieme alle sovrintendenze vanno gestiti gli interventi e i divieti da attuare all'interno delle aree di tutela. A me piace parlare di aree di tutela, non mi piace parlare di centro storico di Ortigia perché Siracusa, almeno nell'arco delle latomie, quindi pensiamo tutta la zona della Neapolis, sono inserite lì una serie di aree di tutela. Aree di tutela non soltanto quelle vicino ai monumenti, ma anche alcune strade che conducono i monumenti. Ci sono assi prospettici come il viale Teocrito che dal Museo archeologico ci porta alla Neapolis, quello è un asse prospettico che io riterrei quale area di tutela. Eccoci in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che riprendiamo parlando del reddito di cittadinanza che ha visto quasi 130.000 domande presentate in Sicilia, delle quali più di 10.000 solo a Siracusa. Proseguono le richieste per ottenere il reddito di cittadinanza. Sono quasi 130.000 le domande inoltrate in Sicilia, tra cui più di 10.000 solo a Siracusa. Con questi dati la Sicilia è seconda solo alla Campania. Le persone che hanno maggiormente bisogno di questa misura sembrano essere coloro che hanno perso il lavoro nell'anno corrente, ma con i calcoli relativi all'ISEE dell'anno prima percepiscono il minimo previsto. In questi casi sarà sufficiente richiedere l'ISEE corrente e presentare la nuova dichiarazione sostitutiva unica. Ricordiamo però, affermano i deputati Ficare Zito, che il reddito di cittadinanza è una misura assolutamente inedita in Italia e, come tutte le novità, ha bisogno di alcuni correttivi e accorgimenti. Rispetto ad alcuni problemi che si stanno riscontrando su piccoli importi dovuti all'anno di riferimento dell'ISEE, i pentastellati Ficare Zito affermano che chi ha presentato la domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza ha fornito la dichiarazione sostitutiva unica a dimostrazione della situazione economica che costituisce la base per il calcolo dell'ISEE. Il problema che in alcuni casi si è potuto verificare è che l'ISEE relativo al 2017 potrebbe non rispecchiare la situazione attuale perché nel frattempo ci sono persone che hanno perso il lavoro e la loro situazione reddituale è peggiorata notevolmente. Per queste ragioni l'Inps, nei giorni scorsi, ha pubblicato tre diversi moduli di domanda. Eventualmente, concludono Paolo Ficare e Stefano Zito, è possibile utilizzare gli strumenti della dichiarazione sostitutiva unica e dell'ISEE corrente che permette di basarsi sulla situazione reddituale degli ultimi 12 mesi o in alcuni casi come la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato degli ultimi due mesi. Sabato prossimo ci sarà l'apertura straordinaria della Teca che custodisce il quadretto del miracolo della Madonna delle Lacrime. Sabato alle 19 con la celebrazione vespertina della Domenica della Divina Misericordia istituita dal Papa Giovanni Paolo II, sarà aperta straordinariamente la teca che custodisce il quadretto miracoloso della Madonna delle Lacrime sul quale verrà accostato il cotone benedetto, simbolo specifico del nostro santuario. Il gesto di poggiare i batuffoli di cotone sul volto della Madonnina fa memoria dell'evento della lacrimazione avvenuta nel 1953 in via degli Orti 11 quando moltissimi fedeli asciugarono le lacrime della Madonna piangente. Il rettore del santuario ha motivato così l'appuntamento. Anche quest'anno il gesto sarà ripetuto, oltre che la domenica precedente ai giorni anniversari della lacrimazione, anche durante la settimana di Pasqua perché si asciugano le lacrime di dolore ma anche le lacrime di gioia per la resurrezione di Gesù. Ancora oggi la Madonna piange per i figli che sono nella sofferenza e per quelli che sperimentano la gioia della resurrezione. Facendo eco all'invito di Papa Francesco, il quale ha detto uniamoci in preghiera con la comunità cristiana dello Sri Lanka colpita nel giorno di Pasqua. Affidiamo al Signore Risorto le vittime, i feriti e la sofferenza di tutti. Quindi domenica alle 17 presso la cripta del santuario l'Arcivescovo Monsignor Salvatore Pappalardo presiderà una concelebrazione eucaristica per le vittime degli attentati nello Sri Lanka affinché la Madonna delle lacrime lenisca le ferite inflitte da atti inumani, insensati e atroci donando pace e speranza a quanti sono nella sofferenza. Ci spostiamo in provincia adesso a Palazzolo in attesa del bando per la pista ciclabile. E' servizio. Professore Vincenzo Vinciullo, parliamo della pista ciclabile della zona degli Iblei. Un decreto che parte già dal 2016 ma ancora ad oggi non partono i lavori, i bandi e bisogna portare avanti comunque dei progetti che vanno a valorizzare quella zona. Ma intanto stiamo parlando di un progetto importantissimo, lo che si è detto Greenway che è un momento importante di riscoperta della nostra storia, dei nostri siti paesaggistici. Questo progetto risale al 2008-2009 quando vennero stanziate delle somme e la provincia regionale di Siracusa come una di Palazzola Gredi e la provincia regionale di Siracusa presentarono separatamente tre progetti per 3 milioni e 50 mila euro ciascuno, tutte e tre finanziati. A dire vero poi vi fu un comune che fece ricorso, ci sono state le linguaggine legate alla giustizia amministrativa e di conseguenza questi soldi sono andati in perenzione. Nel 2016, nell'approvare la nuova programmazione, siccome era un impegno che avevo assunto col territorio abbiamo inserito nell'asse 6.1.1 ben 42 milioni di euro. Speravamo che la provincia regionale di Siracusa ripresentasse il problema, che la provincia di Siracusa ripresentasse il progetto invece il progetto l'ha presentato solo ed esclusivamente il comune di Palazzola Gredi. A fronte però di 42 milioni e 800 mila euro impegnate abbiamo invece progetti solo per 18 milioni di euro. Di conseguenza io oggi faccio un appello al Governo, nel momento che queste somme non possono essere destinate ad altre finalità che venga rifatto immediatamente il bando da parte dell'assessorato territorio e ambiente così come giusto che sia e invito questa volta la provincia regionale di Siracusa e quella di Ragusa a presentare il progetto. Il progetto ce l'hanno nel cassetto perché nel 2008 era stato presentato, quindi si tratta di prendere questo progetto aggiornare i prezzi e presentarlo. Fra altre cose è un luogo magico, il luogo della cultura, il luogo della letteratura. Io avevo detto che lo dovevamo chiamare appunto la pista ciclabile degli ebrei Trattino Vittorini. Perché Vittorini che decanta, che parla in conversazione in Sicilia raccontando questo ritorno che fa a casa perché questa, non dobbiamo dimenticare, è stata una delle tratte ferroviarie più importanti della Sicilia perché era quella che univa la provincia di Siracusa, quindi la città di Siracusa con Vizzini per essere chiaro. Tant'è vero che il tratto che è stato finanziato, il tratto che parte dalla stazione ferroviaria di Cassero attraverso Ferla arriva fino a Buscemi. Un luogo che Vittorio Emanuele III definì il luogo della magia e dell'incanto. Vedete un re così assurdo per tante sue cose, così razionale, chiuso, che veniva spesso nella nostra città e si chiudeva nel museo di Piazza Duomo a studiare le collezioni delle nostre monete fra le più importanti al mondo e lui sicuramente il più importante studioso di numismatica di quel periodo non per nulla era grande amico di Paolo Orsi e lo volle anche senatore della Repubblica nel venire appunto a Siracusa volle andare a vedere questi luoghi è rimasto ingandato di questo mondo di Pantalica, di questa zona che è stata programmata per altre cose, non dobbiamo dimenticare il patrimonio dell'umanità insieme alla città di Siracusa. Quindi l'auspicio che si rifaccia il bando, che possano partecipare le due province che anche il comune di Noto possa partecipare per la realizzazione della pista ciclabile da Noto verso Pachino, si devono svegliare le amministrazioni comunali e realizzare, realizzare questo percorso dove poter portare i nostri figli dove poter fare ammirare ai nostri figli un luogo che non ha nulla di diverso dal Trentino. È tutto per questa edizione di Triste Telegiornale grazie per averci seguito, arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!